buongiorno appassionati del crimine bentornati sul canale se non ci siamo mai visti io sono andrea e oggi vi parlerò di un caso avvenuto in scozia noto come la bestia di birken show ma il suo vero nome era peter manuel questo è un caso piuttosto datato rispetto a quelli che tratto solitamente perché è avvenuto negli anni 50 ed è avvenuto esattamente per la maggior parte diciamo all'anarch share in ogni caso se non avete mai sentito parlare di questa serie di avvenimenti vi consiglio una bevanda calda per smaltirlo o forse sarebbe meglio una bottiglia di vino partiamo questa volta dal 4 di gennaio del 1956 quando un uomo che stava portando a spasso il suo cane nei presidi quello che una volta era un campo da golf si avvicina alla quinta buca non chiedetemi niente perché non so nulla di golf e scorge qualcosa che gli sembrava essere a prima vista un borsone in realtà era ancora molto buio era gennaio quindi le giornate erano molto corte ma avvicinandosi si è reso conto che quello che pensava all'inizio essere un borsone in realtà non lo era affatto era invece purtroppo il corpo mezzo nudo di una donna il suo volto era totalmente irriconoscibile il suo cranio era spaccato e la materia cerebrale era sparsa sul campo questa donna era quasi interamente ricoperta di sangue sembrava essere stata colpita da un oggetto pesante ma la maggior parte delle sue ferite erano senz'altro sulla parte superiore del suo corpo la polizia era stata immediatamente avvisata il corpo portato dal medico legale che dopo l'identificazione aveva scoperto essere la diciassettenne en nylands questa ragazza era stata poi oltretutto derubata di tutti i suoi gioielli e i suoi averi ma non solo era anche stata abusata sessualmente anche se questa cosa già gli agenti l'avevano scoperta dopo la prima occhiata al corpo perché come ho detto era quasi del tutto nuda era stata trovata poi solo una delle sue scarpe a centinaia di metri di distanza questo poteva voler dire che avesse forse combattuto e che fosse scappata dal suo aggressore la polizia subito dopo l'identificazione deve andare a parlare con i familiari di en sia per raccontare l'accaduto ma soprattutto per raccogliere informazioni relative alla ragazza e su ciò che magari avesse fatto nell'ultimo periodo in realtà la famiglia spiega gli agenti che non vedevano en dal 2 di gennaio quindi due giorni prima lei doveva andare quella sera a un ballo aveva un appuntamento il suo primo appuntamento con un ragazzo ma lui l'aveva lasciata da sola non si era presentato a questo appuntamento nonostante i piani concordati fossero diversi quindi possibilmente la ragazza era da sola al momento in cui era stata aggredita ma la polizia non ha né un sospettato né tantomeno una pista da seguire quindi che cosa fanno cercano di fare una lista di tutti i criminali o comunque di tutti gli uomini uomini perché ovviamente c'erano tracce di abuso nel corpo di en che avessero magari dei precedenti ma tutti loro avevano un alibi di ferro quindi la polizia era in un vicolo cieco in realtà le indagini restano ad un punto morto per anni ma tutta la popolazione della contea di lanark è estremamente preoccupata questo perché possibilmente c'era un criminale a piede libero e non si capacitavano di come una giovane donna potesse essere stata attaccata così brutalmente il 17 di settembre del 1956 poi c'è un altro crimine un altro delitto avvenuto ai danni questa volta di una famiglia composta da tre persone durante la notte ma in realtà la polizia non si rende conto da subito che si tratti dello stesso uomo che ha ucciso anche en questo perché prima di tutto era passato tanto tempo erano passati nove mesi e in più il crimine in sé era del tutto diverso in ogni caso la mattina del 18 di settembre la governante di quella casa era tornata sul suo posto di lavoro e lì ci aveva trovato le tre donne morte nei loro letti se le due donne adulte non avevano subito nient'altro a parte la sparatoria invece la ragazzina era stata anche abusata sessualmente e questo era testimoniato anche dal fatto che i suoi vestiti fossero strappati tuttavia la salitore non era affatto soddisfatto del suo operato infatti aveva pensato di ribaltare poi tutta la casa rubare gioielli e denaro per poi scappare via vivien ahimè era sopravvissuta a quell'orrore ma purtroppo poco tempo prima che arrivasse la governante era poi morta la polizia aveva scoperto che margaret si trovasse a casa di sua sorella merion perché proprio quei giorni il marito di merion si trovava in realtà a una di pesca a più di 100 miglia di distanza da casa sembra subito strano alla polizia che in effetti tutta la famiglia di william watt il marito di merion sia stata sterminata proprio quando lui non era in casa e quindi tutti i sospetti ricadono su di lui ancor più quando lui non sembra più di tanto diciamo intristito da ciò che era accaduto ma in realtà william aveva un alibi di ferro o almeno così sembrava questo perché lui aveva i biglietti timbrati del traghetto che aveva preso per andare appunto a quella battuta di pesca ma parlando con dei testimoni soprattutto con colui che guidava il traghetto avevano scoperto gli agenti che william si fosse allontanato più volte dal gruppo insomma e quindi questo signore il guidatore del traghetto sosteneva che forse william potesse essere tornato a casa aver ucciso la sua famiglia e poi essere tornato alla battuta di pesca quindi aveva era andato a questa battuta di pesca solo per crearsi un alibi quindi william viene arrestato solo per dei sospetti e rimane in carcere per ben due mesi durante i quali però il suo avvocato riceve diverse lettere da un anonimo questo anonimo sosteneva che di essere sicuro che non fosse stato william a commettere quei crimini perché lui conosceva perfettamente chi era stato in realtà questa persona sembrava essere davvero credibile questo perché sapeva particolari che nessuno poteva sapere non erano stati rilasciati al pubblico come per esempio il fatto che marion fosse stata colpita in testa per ben due volte ma questa persona sostiene di sapere tutte queste cose perché era stato il compagno di cella di colui che aveva commesso quei crimini quindi durante il loro periodo di detenzione insieme gli aveva raccontato tutto nel frattempo però la polizia cerca delle prove che testimonino effettivamente con sicurezza che sia stato proprio william a commettere quei crimini ma ogni prova inconcludente ogni pista che seguono sembra svanire nel nulla per esempio il traghettatore di cui vi parlavo prima era sicuro di aver visto william allontanarsi come vi dicevo ma aveva descritto un'auto totalmente diversa da quella che aveva william anche nel colore quindi forse non era stato lui ad andare via ma oltre questo william era anche stato a fare il check-in in un albergo nei pressi del canale in cui doveva pescare e nessuno l'aveva visto andare via quindi forse era stato qualcun altro a commettere quei crimini ma chi però forse william d'altra parte aveva un movente per questi crimini infatti la polizia aveva scoperto che fosse stato infedele a sua moglie per tutta la durata del loro matrimonio quindi forse a questo punto si era trovato una compagna e non voleva più la sua vita passata fra i piedi e quindi l'unico modo per eliminarla era senz'altro uccidere tutti quanti ma come dicevo tutte le prove comunque erano inconcludenti e non giustificavano il fatto che william fosse trattenuto in carcere quindi l'unica cosa che gli agenti potevano fare era rilasciarlo e continuare a indagare sul caso per poi eventualmente riarrestarlo con delle prove certe una volta rilasciato dal carcere william è deciso a incontrare quest'uomo che mandava le lettere al suo avvocato e finalmente riesce a organizzare un incontro si incontrano in un pub e william non vuole fare l'uomo diciamo triste e senza speranza vuole dare un'immagine di sé molto forte quindi decide di iniziare la loro discussione minacciando quest'uomo che lo lascia fare ma una volta che william ha finito gli dice una frase che suona molto come non minacciarmi non vuoi avermi come nemico quindi a sua volta molto serio molto rigido molto intimidatorio e in realtà però la discussione non porta da nessuna parte perché william non riesce a scoprire ciò che voleva sapere e nel frattempo nemmeno gli agenti riescono a trovare uno straccio di prova che possa fare in modo che william torni in carcere un anno e mezzo dopo poi il massacro della famiglia watt si verifica un altro triplice omicidio quello ai danni della famiglia smart composta da peter di 45 anni doris sua moglie di 41 e michael il loro figlio di 10 anni ed è proprio a questo punto che la polizia inizia a unire i puntini e capisce che forse si tratta sempre dello stesso killer questo perché il crimine era praticamente identico al precedente la famiglia smart esattamente come la famiglia water è stata affreddata mentre tutti i membri della famiglia erano nei loro letti con un colpo di pistola alla testa ma il criminale non si era fermato lì aveva rubato soldi qualche gioiello ma aveva addirittura mangiato quasi tutto il cibo che si trovava a casa smart ma è importante che tutto ciò faceva capire forse agli agenti che effettivamente magari william fosse innocente questo perché lui non c'entrava nulla con la famiglia smart ma non solo il crimine che era stato perpetrato per più volte non sembrava così personale quindi probabilmente c'era un altro criminale a piede libero che si divertiva provava piacere a commettere questi tipi di reati la polizia dopo aver portato i corpi dal medico legale inizia anche a indagare su questo caso ma il medico sostiene che queste persone siano morte molti giorni prima infatti come vi dicevo erano deceduti il primo di gennaio del 58 ma erano stati trovati solo con molti giorni di ritardo quindi la polizia inizia a fare domande a familiari e amici come succede sempre quello è il punto di partenza insomma la polizia scopre prima di tutto che si trattasse di una famiglia molto ricca infatti avevano una bella casa una bella macchina ma in generale davano l'idea di essere una famiglia molto benestante per il loro modo di vestire anche per il loro portamento in generale questo poteva essere però controproducente perché magari qualcuno poteva voler rubare tutti i loro averi e un altro particolare fondamentale che la polizia scopre che in quei giorni tutta la famiglia doveva trovarsi in vacanza ed era proprio per quello che non erano stati trovati prima i corpi perché dal primo al 5 di gennaio avevano in programma di andare via quindi era ovvio che nessuno si sarebbe presentato a casa loro per fare una visita e tantomeno avrebbe chiamato ma è sempre parlando con i familiari della vittima che si scopre il dettaglio forse più importante di tutti infatti scoprono che il 31 di dicembre del 1957 peter fosse andato a prelevare delle banconote da 5 in banca gli servivano per il viaggio che avrebbe affrontato il giorno successivo ma queste banconote non erano state trovate in casa quindi ovviamente chi aveva ucciso la famiglia doveva aver rubato quel denaro erano delle banconote ben specifiche nuove di zecche con dei numeri di serie particolari quindi la polizia ha allertato qualsiasi negozio praticamente nell'intera scozia se per caso qualcuno avesse ricevuto del denaro simile avrebbe dovuto immediatamente allertare gli agenti perché probabilmente quella persona era il killer che stavano cercando e in effetti i detective ci avevano visto lungo perché proprio in un pub a glasgow un uomo stava spendendo esattamente quelle banconote quest'uomo all'epoca aveva 31 anni e si chiamava peter manuel era già conosciuto alle forze dell'ordine perché aveva commesso una serie infinita di reati minori fino ad allora e in più era stato proprio per questo motivo interrogato in relazione ad ogni delitto di cui vi ho parlato finora ma sembrava tutte le volte avere un alibi di ferro cosa che poi in realtà non aveva affatto perché era stato davvero lui a commettere quei crimini peter viene arrestato quando era a casa dei suoi genitori nella contea di lanark ma non è l'unico a essere messo in manette questo perché anche suo padre samuel viene arrestato per il motivo molto semplice che aveva coperto il figlio per quanto riguardava il primo delitto quello ai danni di en aveva infatti fornito al figlio un alibi aveva detto alla polizia che si trovava a casa quella sera ma in realtà lui non c'era affatto perché era stato lui a uccidere en comunque entrambi vengono portati alla stazione di polizia interrogati separatamente ed è proprio qui che senza preavviso praticamente peter confessa tutto ma non solo i crimini di cui la polizia era a conoscenza anche diversi altri peter thomas anthony manuel era nato il 13 di marzo del 1927 i suoi genitori erano scozzesi si chiamavano samuel il padre come ho già detto e bridget la madre ma dopo essersi sposati si erano trasferiti a new york dove era nato peter quindi lui era di fatto new yorkese ma a soli due anni di età si erano trasferiti tutti quanti insieme a detroit nel 1929 esattamente l'anno in cui si è verificato il crollo di wall street e bridget e samuel non se la stavano passando affatto bene economicamente e non potendosi più permettere di rimanere in america avevano deciso di ritrasferirsi in scozia esattamente a birkenshaw la vita di peter viene quindi completamente stravolta non solo per il cambio di paese ma anche perché in scozia lo aspettava il suo fratello maggiore bridget e samuel infatti avevano avuto un figlio james prima di trasferirsi a new york che avevano lasciato in scozia insieme ad altri membri della famiglia ritornati poi in scozia ovviamente james era tornato a vivere con loro e anche con la sorellina che bridget e samuel avevano avuto dopo essere tornati in scozia quindi ad un certo punto peter si è ritrovato da essere figlio unico ad essere uno dei tre in più james non era nemmeno tanto un modello da seguire questo perché era un vero e proprio furfante ma in realtà peter voleva essere esattamente come lui andando poi a scuola in scozia peter ormai aveva più di dieci anni tutti i suoi compagni lo bullizzavano costantemente questo perché aveva delle abitudini tipicamente americane e il suo accento era tipicamente americano e questo lo differenziava molto dai suoi compagni che erano nati in scozia e sempre vissuti lì io non capirò mai davvero questo modo di pensare secondo me si dovrebbe prendere il meglio da ogni cultura e vivere un po più in pace gli uni con gli altri ma capisco d'altronde anche che in un contesto scolastico non sia sempre facile ad ogni modo quindi peter ad un certo punto non vuole nemmeno più andare a scuola questo perché non gli piace essere preso di mira quindi inizia a uscire con suo fratello james e i due si mettono insieme a derubare le persone per strada pian piano i crimini diventano sempre più gravi iniziano anche entrare in casa di altre persone e in più entrano spesso anche nella chiesa del loro paese per rubare i soldi delle donazioni la polizia aveva più volte avvisato peter dicendogli che se avesse continuato a commettere quei crimini sarebbe prima o poi andato in carcere e in effetti all'età di appena 12 anni proprio così accade perché peter finisce col passare diversi mesi in prigione ma questo non gli fa mettere affatto la testa a posto anzi uscendo di prigione continua a fare esattamente ciò che faceva prima quindi i suoi genitori decidono di prendere la situazione in mano e di trasferirsi a coventry un paese in inghilterra lasciando invece james in scozia questo perché james era un pessimo esempio per peter e loro l'avevano capito bene ma purtroppo non è servito a nulla una volta arrivati in inghilterra peter aveva cambiato scuola ma le sue abitudini erano rimaste le medesime infatti una notte aveva pensato di entrare a casa del suo professore aveva trovato la moglie sveglia l'aveva aggredita con un oggetto pesante trovato in casa lei fortunatamente era sopravvissuta e peter era fuggito ma nel frattempo il suo professore si era accorto di ciò che stava succedendo e aveva visto peter in faccia e mentre si allontanava era riuscito quindi a denunciarlo e a fornire l'esatto nominativo del ragazzo questo perché lo conosceva benissimo la polizia l'aveva quindi arrestato e condotto nuovamente in carcere in effetti ormai non si trattava solo più di effrazione ma di tentato omicidio e quindi durante la sua detenzione gli avevano fatto anche dei test psichiatrici che però avevano rivelato che lui fosse perfettamente sano o almeno così era risultato dai test fatti negli anni 50 magari fossero stati fatti oggi i risultati sarebbero stati diversi peter aveva commesso questo crimine all'inizio degli anni 40 quindi era iniziata la seconda guerra mondiale si trovava come ho detto in carcere e durante la sua detenzione la casa dei suoi genitori era stata bombardata quindi i suoi genitori non avevano avuto scelta se non quella di tornare in scozia e l'avevano lasciato nel centro di detenzione in inghilterra completamente da solo detto questo durante la sua prigionia peter non se l'è passata molto bene questo perché durante un altro bombardamento una scheggia gli si era piantata nel cranio nel cervello insomma gli era arrivata in testa e gli aveva provocato diversi danni dai quali ci aveva messo un bel po prima di riprendersi dopo essersi ripreso poi era stato folgorato da una scossa elettrica lui infatti insieme ad altri suoi quattro compagni era stato assegnato per un lavoro di elettricità non so dire esattamente quale nel particolare sta di fatto che durante questo lavoro tutti e cinque erano stati folgorati da una scossa elettrica tre addirittura erano morti e lui e un altro suo compagno invece erano sopravvissuti però riportando gravi danni al cervello nel 1945 peter viene rilasciato dal carcere aveva 18 anni e va di nuovo a vivere in scozia con i suoi genitori ma è nel marzo del 1946 che peter decide di portare i suoi crimini a un livello superiore infatti in una sola settimana vuole aggredire sessualmente tre donne le prime due riescono a difendersi alla stragrande lo mettono in fuga ma la terza purtroppo non ci riesce viene abusata sessualmente ma dopo va diritta dritta alla polizia per denunciare l'accaduto e dà un identikit preciso del suo aggressore la polizia sa già perfettamente di chi si tratti per tutte le bravate che peter aveva commesso negli anni precedenti e quindi lo arrestano vengono anche a dichiarare ciò che era successo le altre due donne quindi tutte e tre lo identificano positivamente davanti alla polizia detto questo lui viene arrestato e questa volta rimane in carcere per ben sei anni dal 1946 al 1952 una volta rilasciato dal carcere peter si era poi trasferito a glasgow e proprio lì aveva trovato lavoro come falegname e si era addirittura fidanzato con una ragazza il loro fidanzamento gli aveva fatto davvero molto bene perché lui sembrava essere cambiato in positivo ma ai loro questa relazione era poi finita per motivi a me ignoti quindi lui era tornato dritto dritto alle vecchie abitudini aveva una notte deciso di aggredire una donna qualsiasi era uscito di casa con l'idea proprio di fare del male a una donna lei si chiamava mary e in realtà era sopravvissuta quest'attacco anzi l'aveva di nuovo anche lei messo in fuga ma questo non le aveva impedito di andare a denunciarlo alla polizia che di nuovo sapeva benissimo di chi stesse parlando e di nuovo l'aveva arrestato peter quindi era andato a processo ma aveva deciso di difendersi da solo e non so come sia possibile ma era riuscito a farsi scagionare da ogni accusa raccontando che mary fosse una sua vecchia conoscenza che in realtà fosse innamorata di lui ma che lui stesse frequentando anche altre donne e che lei fosse estremamente gelosa quindi aveva inventato tutta quella storia dell'aggressione solo per fargliela pagare comunque sia passiamo a gennaio del 1956 quando peter commette il reato più grande che abbia mai commesso fino ad allora e cioè l'omicidio di anne come vi raccontavo all'inizio lei era stata brutalmente attaccata uccisa con dei colpi dati con un oggetto pesante e in più era stata abusata sessualmente sulla lista dei nomi stilati di eventuali persone che potevano aver commesso questo crimine c'era anche il nome di peter ma lui nonostante qualche particolare magari un po strano aveva fornito un alibi decente diciamo così anche aiutato come vi dicevo prima dal padre che lo aveva coperto ma voi pensate solo che se suo padre non avesse intralciato le indagini della polizia questo tizio sarebbe stato preso praticamente al primo reato davvero grave commesso e non avrebbe più fatto del male a nessuno diversi mesi dopo poi tra un crimine minore e l'altro peter aveva ucciso la famiglia watt quindi composta da tre persone siamo quindi a quota quattro omicidi nella casa come dicevano hanno stati rubati oggetti preziosi anche denaro ma non tutto ed era proprio per quel motivo che la polizia aveva iniziato a pensare che chi commetteva quegli atti in realtà lo facesse solo per provare piacere per quei crimini nei confronti della famiglia watt era stato incastrato william peter era anche stato interrogato come sospettato ma la polizia gli aveva creduto sul fatto che lui non c'entrasse niente con quei crimini e quindi non aveva indagato oltre d'altra parte era sempre stato william il principale sospettato in quel caso ma se vi ricordate william aveva chiesto al suo avvocato di fargli fare un incontro fargli avere un incontro con quell'uomo che gli scriveva le lettere ecco quell'uomo non era altri che peter stesso era lui stesso a inviare le lettere e non un suo ipotetico compagno di cella quindi per forza che la discussione tra i due tra william e peter si era rivelata inconcludente per william perché era ovvio che peter non volesse farsi incastrare ma stava solo giocando con una delle sue vittime che era rimasta poi in vita cioè william è ovvio che william non sia una vittima effettiva di peter però può essere definita così secondo me perché effettivamente ha massacrato tutta la sua famiglia voglio dire ma proseguiamo oltre perché siamo ancora molto lontani dalla fine di questo caso infatti la polizia crede adesso che peter stia confessando l'omicidio della famiglia smart subito dopo quello della famiglia watt ma in realtà non è così perché lui nel frattempo ne aveva commessi altri che confessa ma non li confessa nemmeno tutti ma comunque andiamo per ordine peter si era trasferito a new castle in inghilterra per un breve periodo nel dicembre del 1957 per trovare lavoro l'otto di dicembre del 57 appunto aveva chiamato un taxi e il tassista si chiamava sydney dan di 36 anni tra i due c'era stato un breve alterco che aveva scatenato tutta l'ira di peter gli aveva sparato in testa e aveva spostato il suo corpo nel sedile passeggero così da poter portare la sua auto il suo taxi in un posto lontano e ad abbandonarlo lì in realtà peter non è mai stato processato per questo crimine questo perché era avvenuto in un'altra giurisdizione ma dopo la morte di peter era stato appurato che fosse stato lui a commetterlo questo perché un bottone della sua giacca era stato trovato all'interno del taxi ma nonostante il ritrovamento di questo bottone in realtà le prove non non erano sufficienti per dichiararlo colpevole del cento per cento diciamo che c'è la grande possibilità che sia stato lui ma adesso passiamo al sesto omicidio perpetrato da peter che non è ancora il crimine nei confronti della famiglia smart quindi ce n'era ancora uno precedente ai danni di una ragazza di nome isabel cook di appena 17 anni lei era uscita di casa il 28 di dicembre del 1957 quindi davvero pochissimi giorni dopo la morte di sidney dann il tassista e non aveva fatto più ritorno doveva andare al ballo della scuola ma il suo corpo non è stato trovato se non diversi mesi dopo la sua scomparsa nonostante il suo caso fosse diventato di importanza nazionale quindi il 28 di dicembre isabel era scomparsa ma noi sappiamo che il primo di gennaio peter aveva commesso il delitto nei confronti della famiglia smart quindi appena tre giorni dopo quello che però non ho detto prima è che peter avesse poi dormito e mangiato in casa della famiglia smart dopo averli massacrati insomma si era stabilito in quella casa aveva dormito nei letti con accanto i cadaveri di questa famiglia aveva usato poi la loro auto per tutti i giorni successivi al delitto per andare e venire per fare le sue commissioni e nessuno nessuno dei vicini si era mai accorto di nulla nessuno aveva mai notato nulla di strano se non le tende di casa tirate ma voglio dire poteva anche essere abbastanza normale siccome la famiglia smart doveva essere via ma vado avanti velocemente perché voi non vi aspettate sicuramente quello che sto per dirvi a meno che non conosciate bene questo caso infatti peter stava usando la macchina degli smart ma quello che è più assurdo è che peter un giorno avesse dato un passaggio a un agente di polizia che stava lavorando al caso di isabel da casa di questo agente fino alla stazione di polizia e che i due si fossero messi a parlare durante il tragitto proprio del caso di isabel cioè questo agente stava parlando di un caso di una scomparsa di una ragazza con l'uomo che l'aveva fatta sparire su un'auto rubata di una famiglia che questo stesso uomo aveva massacrato poche ore prima e quest'uomo peter aveva ancora avuto il coraggio di dire alla gente che secondo lui non stavano trovando il colpevole perché stavano cercando dalla parte sbagliata ma come diavolo in effetti gli agenti si erano resi conto che la ragazza non fosse scomparsa ma che fosse proprio morta questo perché peter l'aveva aggredita sessualmente poi l'aveva strangolata a morte e infine seppellita in un'area boschiva nei dintorni e quindi a questo punto si chiude il cerchio perché peter viene arrestato pochi giorni dopo il massacro della famiglia smart e confessa tutto tutto ciò che vi ho detto finora tranne il delitto nei confronti di sydney dunn il tassista e forse io posso anche arrivare a credere che in effetti non sia nemmeno stato lui perché a questo punto non gli cambiava niente confessare un crimine in più o uno in meno in ogni caso peter ha anche condotto la polizia nell'esatto punto in cui aveva seppellito isabel incredibile ma vero alla fine nonostante la sua confessione che però non era ufficiale peter è stato accusato solo dei delitti nei confronti della famiglia smart questo perché per gli altri delitti non c'erano prove sufficienti che lo collegassero ai casi si è svolto poi il processo a maggio del 1958 e peter ha voluto difendersi da solo era risultato davvero molto persuasivo e quasi stava riuscendo a farla franca ma poi è andata un po diversamente prima di tutto per quanto riguarda le confessioni che aveva fatto seppur non ufficiali aveva dichiarato che aveva confessato solamente perché la polizia stava minacciando lui e la sua famiglia e quindi lui per paura aveva detto cose che non erano poi in realtà vere dopo di ciò aveva dichiarato invece che per quanto riguarda il massacro della famiglia watt lui non c'entrava niente e che era invece stato william william quindi si era dovuto presentare al tribunale di glasgow per difendersi da queste accuse e si era presentato in barella perché pochi giorni prima aveva anche subito un incidente d'auto per quanto invece riguarda la famiglia smart peter aveva dichiarato che fosse stato il padre a uccidere prima il figlio e poi la moglie prima di spararsi ma nonostante tutto questo treatrino montato ad arte nessuno alla fine gli ha creduto quindi peter è stato condannato per tutti i crimini commessi tranne quello nei confronti di anne la sua prima vittima perché non c'erano prove evidentemente sufficienti ma tutto ciò è bastato per farlo condannare a morte peter è stato giustiziato tramite impiccagione l'11 di giugno del 1958 e come suo ultimo pasto ha richiesto fish and chips con contorno di pomodori un bicchierino di brandy e del tè è stato poi sepolto in una tomba anonima non lontano dal braccio d in cui era detenuto nella prigione di barlin per chiudere questo caso orribile posso ancora dirvi un piccolo particolare che io ho trovato molto interessante ma soprattutto direi inquietante infatti ho scoperto che peter manuel ha ispirato una filastrocca per bambini sì una filastrocca per bambini che recita mary aveva un gatto di nome daniel aveva scoperto poi che aveva ucciso sei topi e quindi l'ha chiamato manuel capito da peter manuel chiaro nesso no che filastrocca fantastica comunque detto questo questo è tutto ciò che so riguardo questo caso spero l'abbiate trovato interessante tanto quanto meglio l'ho trovato orribile onestamente detto ciò grazie per essere rimasti con me fino alla fine e noi ci vediamo lunedì o giovedì con il prossimo caso true crime ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti